Ciao, sono Denis dell'azienda agricola Drillus Mauro, situata a Cormons. Qua siamo nella zona di Siris, nella Do Chisonso. Questo è un vignetto di Toccai Friulano. Più specificatamente si tratta di una selezione massale, allevata a Gouillot. Si tratta di un friulano, in questo caso di che tipo? Quanti anni hanno le vigne? Questo vigneto ha circa 20 anni. Non è sicuramente il vigneto più vecchio che abbiamo, perché per esempio nella zona di Brassano abbiamo i nostri vigneti più vecchi. Sono vigneti che hanno più di 40 anni. Qua invece abbiamo dei vigneti più giovani, che hanno anche un sistema di vevamento un po' più moderno. Qual è l'aspetto che più ti lega a questo tipo di vitigno? Sicuramente è la varietà che conosco meglio, perché rappresenta la parte più importante in termini di superficie per la nostra azienda e anche quella a cui sono legato in modo anche affettivo per la passione che mi è stata trasmessa dal nono Sergio appunto per la varietà Toccai Friulano.